Samaric Samaric Udoge in area Lovric controlla Lovric e davanti l'Udinese ha colpito Sandy Lovric quinto gol al primo anno di Serie A Team non male Di Lorenzo Wallace Udoge orienta il controllo parte Udoge ne salta un altro si gioca però con la conclusione da fuori gestita da Meret ci ha riprovato da lontano Lovric Anghissa Elmas parte adesso il cross Ozyman indirizza al lato di pochissimo applaude poi Elmas per il cross Lovric prima finta poi Nestarowski Lovric controlla ancora Udoge in area Lovric Wallace calcia a lato il destro da lontano di Wallace Elmas il cross dentro di testa Olivera Anghissa mette giù la ributta dentro Palla che esce Baraschelia Silvestri e poi Ozyman via la maschera e passa la paura uno a uno chi se non Victor Ozyman nel momento delicato a un passo dal traguardo Anghissa Elmas si muove Geliski cercato in area Gran Palla che parata di Silvestri parlano la stessa lingua Elmas Geliski è pronta a esplodere la festa è finita sulle note del tormentone che l'ha accompagnato per tutta la stagione sotto 1 a 0 il Napoli non molla e realizza il sogno nel cuore del popolo azzurro 33 anni dopo Napoli torna campione le lacrime di Luciano Spalletti si è tutto vero il Napoli è campione d'Italia